vicepresidente marsala per sciacca ci sono stati alcuni mesi anzi numerosi e mesi di situazione positiva per quanto riguarda il conferimento della frazione umida dei rifiuti adesso nelle ultime settimane prima è saltato un turno poi un altro è stato spostato e si è preso dal comune che c'era qualche problema all'impianto cosa è accaduto ma sostanzialmente è accaduto semplicemente che l'impianto è arrivato al limite della capienza perché il momento in cui da quando ci siamo insediati diversi comuni tornano a conferire all'impianto comuni soci è chiaro che la produzione di umido prodotta è tale che raggiunge il limite di capienza l'impianto essendo un impianto ormai vecchio bisoleto e che riusciamo a trattare quel limite che abbiamo nonostante proviamo a fare salti mortali per cercare di garantire a tutti i comuni soci il conferimento talvolta può capitare che abbiamo bisogno di un paio di giorni di tempo per poter lavorare il prodotto e quindi creare spazio in modo tale da riprendere la filiera di lavorazione nei mesi scorsi quando diciamo la situazione poi era nettamente migliorata rispetto al passato si era appreso anche di un contratto con una società con un'azienda esterna per il conferimento dei rifiuti in eccedenza ecco questo è ancora possibile o ci sono stati problemi anche su questo versante no noi siamo ancora in questo momento con questo contratto perché riusciamo a smaltire il rifiuto in eccedenza con questa società solo che un problema complessivo di impianti disponibili in sicilia non soltanto in sicilia rende anche loro talvolta difficile poter comparire il prodotto che entra da noi e che loro poi devono portare fuori ci sono due aspetti nella vicenda che diciamo rivestono grande attenzione il primo è quello che riguarda l'ampliamento del dell'impianto con il progetto già presentato e finanziato ed il secondo riguarda le prospettive avvicinandoci alla stagione primaverile ed estiva quando c'è un maggiore una maggiore produzione di rifiuti anche della frazione umida ecco cosa ci può dire sia per l'uno che per l'altro aspetto sull'impianto di compostaggio siamo dovremmo essere alle fasi di finanziamento perché già in via d'uscita dalla sessorato al territorio ambiente e quindi poi passerà al dipartimento rifiuti per il decreto di finanziamento materiale quindi noi speriamo nei prossimi mesi di avere già il finanziamento del dell'ampliamento dell'impianto di compostaggio e dentro l'anno si potranno realizzare i lavori a suo parere questo è da vedere perché dipende anche un po dalle fasi di gara e da quando ovviamente il decreto di finanziamento verrà fatto dal dipartimento noi siamo fiduciosi e faremo il possibile affinché possa essere fatto prima possibile per quanto riguarda invece la stagione estiva è chiaro che ci sarà un importante momento del dell'umido e anche lì abbiamo già programmato degli interventi che possano evitare eventuali difficoltà ai comuni soci si può dire che comunque ci potrebbe potrebbe saltare qualche turno ma che non si dovrebbe arrivare ad una situazione di crisi come quella che invece si è vissuta nel passato quando per lunghi periodi per le difficoltà che chiaramente lei ha evidenziato non è stato possibile conferire l'impianto questo ritengo che possiamo escluderlo perché a differenza di altri anni da quando ci siamo insediati principalmente in questo periodo stiamo ponendo in essere tutte quelle attività di programmazioni che possono evitare o rischiare di far andare in crisi la raccolta dell'umido nei comuni più grossi ovviamente dove adesso con Sciacca e Ribera che raccolgono hanno attivato tutte le procedure di raccolta porta a porta differenziata e tutti gli altri comuni ovviamente più piccoli quindi pensiamo di evitare la crisi o l'emergenza che si è verificata negli altri anni